benvenuti in questo nuovissimo video in cui andremo a vedere come fare degli scatti fantastici con il vostro smartphone parliamo subito vediamo in questo video lo smartphone che andrò ad utilizzare sarà lo xiaomi mi 5 che ho come telefono principale che ha un eccellente fotocamera da 16 megapixel con un ottimo stabilizzatore comunque gli argomenti che tratterò si applicano a qualsiasi smartphone infatti diciamo che sono le basi della fotografia ci tengo però a precisare che non sono né un fotografo professionista quindi nel video potrei sia sbagliare qualche termine oppure usare un gergo che non è proprio tecnico appropriato ecco in quel caso diciamo non fatemi rapire da un professionista dell'est quindi partiamo subito per prima cosa andremo ad abilitare la modalità manuale nella nostra fotocamera che si potrebbe presentare con delle interfacce diverse e con dei diversi valori che chiaramente variano anche in base alla fotocamera dello smartphone anche se diciamo che bene o male avranno le stesse voci magari cambieranno le icone le posizioni ma le cose sono quindi ecco partiamo subito con la prima cosa della mia blacklist quindi per prima cosa andiamo a vedere il bilanciamento del bianco questa funzione proprio come dice il nome serve per bilanciare la tonalità del bianco infatti possiamo andare a modificare il bianco a seconda delle nostre esigenze se siamo al chiuso a seconda del tipo di luce selezioneremo incandescenza o fluorescente se siamo all'aperto andremo a settare diurno se è nuvoloso andremo a settare nuvoloso e volendo possiamo anche modificare il valore manualmente partendo dal valore più basso però con una tonalità più fredda fino al valore più alto con una tonalità più calda anche se sinceramente vi consiglio di usare i settaggi preimpostati anche per perdere meno tempo non perdiamo tempo e passiamo subito al punto 2 la messa a fuoco la messa a fuoco è molto importante e conosceranno già la conosceranno già molti di voi infatti possiamo regolare la messa a fuoco di modo da fare delle foto in macro o delle foto in infinito adatto per i paesaggi il macro per chi non lo sapesse diciamo che sono le foto ravvicinate ad esempio una foto degli insetti o dei fiori eccoci arrivati al terzo punto i tempi di esposizione i tempi di esposizione sono molto importanti in quanto ci permetteranno di avvicinarci di molto alle tecniche fotografiche più usate come ad esempio l'acqua effetto seta che potete vedere in questa foto che ho scattato io personalmente inoltre diciamo che questa funzione ci permetterà di fare scatti mille volte migliori di notte riducendo il classico rumore che si avrebbe usando la modalità automatica e se andremo a regolare un valore più basso infatti avremo uno scatto molto più veloce ma con un conseguente meno luce che entra nell'obiettivo e quindi foto più scura che potremmo comunque correggere leggermente aprendo il diaframma che viene anche chiamato e vu in alcune applicazioni di fotocamera cioè facendo entrare più luce nel nostro obiettivo detto in parole povere se invece andiamo ad alzare il valore avremo molta più luce che entra nell'obiettivo il che ci permetterà di fare delle foto notturne o con comunque scarsità di luce molto migliori però allo stesso tempo dovremo stare attenti a non muovere la fotocamera neanche di un millimetro perché altrimenti le foto verranno mosse in quanto il tempo di scatto comunque aumenta come ultima cosa ma non per importanza il valore ISO valore ISO che in fotografia indica la sensibilità del sensore della fotocamera digitale alla luce i valori predefiniti automatici sono decisamente molto alti infatti variano intorno ai 1600-3200 ISO e anche alle 6400 in condizioni di luce scarsa questi valori regalano sì delle immagini molto luminose però con tantissimo rumore come potrete notare dalle foto scattate con scarsità di luce infatti secondo me non conviene usare dei valori superiori ai 400-800 ISO ma conviene compensare questa mancanza di luce o aprendo il diaframma come abbiamo visto prima oppure aumentando i tempi di esposizione quindi ragazzi siamo giunti al termine di questo video spero vi sia piaciuto e niente usando questi pochi e semplici consigli sicuramente riuscirete a fare delle foto migliori con il vostro smartphone in modalità manuale anche rispetto al vostro amico sciccoso con la macchina fotografica senza le basi di fotografia e con questo è tutto ciao ciao dai Telepax ciao 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 ciao